Ciao a tutti, colleghi studenti AFOL, sono Daniele Benedettelli, benvenuti nel mio laboratorio Lego e oggi vi parlerò di questo nuovo set, Lego Education Spike Essential. Mettetevi comodi. Desidero ringraziare C2 Group per avermi fornito il materiale Lego con cui ho potuto fare questa recensione. C2 Group è un nuovo distributore Lego Education per l'Italia. In questo video vi parlerò di questi prodotti dal punto di vista del designer Lego freelance più che del docente. Adesso mettiamo a confronto la tecnologia di Lego WeDo 2 con il nuovo Spike Essential. Qualcuno potrebbe obiettare che il nuovo sistema, il nuovo set costa di più, però anche la tecnologia che è inclusa è nettamente diversa, al di là del fatto che sono passati degli anni. Intanto nella versione base WeDo viene fornito con un pacco batterie che devono essere comprate separatamente e la batteria ricaricabile esiste ma è comunque da comprare a parte. Entrambi hanno la connettività Bluetooth a bassa energia, BLE, Bluetooth Low Energy, due porte nel nuovo standard Powered App. Il vecchio WeDo aveva a disposizione due sensori, uno di inclinazione, che era in realtà un vero e proprio accelerometro a due assi, anche se poi nell'app la lettura era limitata al su, giù, destra, sinistra, insomma era una limitazione software, non hardware. E poi questo sensore di distanza, che poteva essere usato a distanze ravvicinatissime per distinguere un colore chiaro da un colore molto scuro. Il motore. Il motore che non ha un sensore di rotazione incorporato, quindi è semplicemente un motore che potete accendere, spegnere e decidere in che direzione mandarlo. E invece il nuovo Spike Essential ha una dotazione un po' più avanzata. Intanto ha un sensore di colore, sensore di luce riflessa e sensore di luce ambientale incorporato, che può essere usato anche a brevi distanze per vedere se un oggetto è presente o meno. E diceva, ma il sensore di inclinazione che fine ha fatto? Non c'è più? Aha, c'è e come? Perché all'interno di questo hub noi abbiamo una unità inerziale di misurazione, una IMU, che misura l'accelerazione su tre assi e anche l'angolo. Quindi c'è un giroscopio accelerometro tutto integrato insieme, che permette di capire come è orientato nello spazio questo oggetto, a che velocità sta ruotando, anche se è stato colpito o se viene agitato. Poi abbiamo questo fantastico nuovo dispositivo, che è un display a matrice LED RGB, quindi potete accendere questi tre LED di tutti i colori che volete. Immaginate avere tantissimi di questi dispositivi, metterli uno accanto all'altro e fare un enorme display a matrice. Potete fare un televisore Lego. E poi due motori, che non sono semplici motori, ma sono servomotori, che significa che voi potete controllare la velocità di questo motore, finemente potete controllare la posizione, l'accelerazione. Potete usare questi motori come sensori perché al loro interno hanno un sensore di rotazione, per cui potete misurare anche delle piccolissime variazioni nell'angolo. Ovviamente se connettete entrambi i motori, le porte sono finite e non possiamo usare nessun sensore. Oppure possiamo. Vedrete dopo che cosa mi sono inventato. Inoltre, cosa fondamentale è che questo hub viene fornito con una batteria ricaricabile. Si può ricaricare semplicemente collegando l'hub tramite un cavo micro USB a un caricatore a 5V qualunque. La divisione dei pezzi nelle vaschette per colore può essere comoda in classe, ma non ha senso quando si progetta un modello nuovo e quindi io le ho divisi così per comodità. Mattoncini, curve e slope, pezzi curvi, tile, cioè pezzi lisci, vari plate, normali e con i buchi technique, i beam, cioè le travi technique, mattoncini technique, cioè mattoncini con i buchi, poi pezzi technique tipo i pin, i connettori, gli assali, le ruote, e poi questi miscellani, diciamo, in cui ho lasciato l'adesivo originale. La totale assenza di ingranaggi nel kit è sicuramente una scelta by design, cioè voluta, ma ha lasciato perplesso me molti altri designer e insegnanti affezionati al buon vecchio set WeDo 2.0, che di ingranaggi ne aveva un bel po'. Come intuisco dalla presenza di alcune lezioni sul sito Lego Education denominate Essential Combined, l'idea di Lego è che il set Spike Essential debba essere utilizzato insieme al set Brick You Motion Essential, che contiene altri ingranaggi, il che è una bella mossa dal punto di vista commerciale, anche se non è a vantaggio del consumatore. Il set include anche due nuove ruote in gomma dura, che si aggiungono a quelle presenti nel set Lego Spike Prime Core e Espansione. La ruota grande misura esattamente 11 unità Lego, quella media 7 unità Lego e quella piccola, beh, non sono né 5 unità Lego, né 6 unità Lego, è una via di mezzo, l'ho misurata col calibro e sono esattamente 43 mm, quindi farò altri esperimenti per capire questa scelta di design. Nel set ci sono questi nuovi pin Technic verdi con un anti-stud, cioè un alloggiamento per il bottoncino Lego, che sono alti esattamente un plate, che permettono di connettere i pezzi Technic con i pezzi Lego classici. Widoo 2.0 aveva un suo software di programmazione a blocchi, a icone grafiche, proprietario sviluppato dal Lego, mentre Spike si basa su un linguaggio di programmazione molto conosciuto e diffuso all'interno della scuola, nel caso delle icone grafiche come Scratch Junior. Oppure si può creare un programma con i word blocks, quindi si può programmare direttamente in Scratch 3. Questa è la vera novità. Gli smanettoni saranno felici di sapere che l'hub di Lego Spike Essential è accessibile tramite un terminale che si chiama REPL. Infatti l'hub esegue nativamente un sistema MicroPython. MicroPython è un linguaggio di programmazione ad alto livello che permette di programmare script per il vostro hub che possono essere eseguiti anche senza la connessione continua col computer. Ad esempio se io qui scrivo Import Hub, posso scrivere hub.battery.capacityleft e so che mi rimane il 60% di batteria. Questo è un esempio. In realtà io posso fare qualunque cosa. Posso caricare i programmi dal computer. Posso addirittura esplorare la memoria dell'hub. Per esempio posso scoprire una cosa simpatica. Cioè il nome con cui hanno sviluppato questo prodotto interno al Lego è GECO. Così come il nome in codice di Spike Prime era Flipper. Però finalmente quello che tutti stavate aspettando. Guardate cosa ho combinato con il set Lego Education Spike Essential. Guardate cosa ho combinato con il nostro corso. il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Questo è tutto, io vi saluto e come al solito restate giovani, continuate a giocare Ciao Ciao a tutti Colleghi, studenti Affol Buongiorno